E' iniziata ieri sera a San Vito Lo Capo, Libri Autori e Bucanville, la rassegna letteraria curata da Giacomo Pilati e organizzata dal Comune e dalla Proloco. Arrivata alla sua venticinquesima edizione, Libri Autori e Bucanville è la rassegna letteraria più longeva fra quelle siciliane. Madrina della serata è stata Teresa Principato, che ha presentato il libro Siciliana. Magistrata fino al 2022, Teresa Principato è stata una delle principali protagoniste della resistenza siciliana alla mafia. Ha vissuto gli anni intensi del pool antimafia accanto a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il suo Siciliana è il racconto di una vita di donna e magistrato in prima linea. Una memoria storica dai forti toni critici su un lungo percorso insanguinato dalle stragi e inquinato da veleni, scontri, minacce e depistaggi. Il prossimo appuntamento è giovedì con Maurizio De Lucia, procuratore capo della Repubblica di Palermo e Salvo Palazzolo, giornalista di Repubblica. De Lucia e Palazzolo presenteranno il libro La cattura, il racconto in presa diretta della cattura di Matteo Messina Denaro.